Il primo capitolo del romanzo si titola «Turchi maledetti, figli del demonio, vomito dell'inferno, per secula seculorum» e il grido di dolore che salse ancora dalla penisola sorrentina il giorno 12 giugno del 1560, il giorno prima che, come hanno annunziato i messaggeri del vicere di Napoli, il giorno prima del rientro degli ostaggi superstiti massesi e sorrentini, del grande saccheggio turco di Massa Lubrense e di Sorrento che si è verificato due anni prima per un'intera giornata il 13 giugno del 1558. E' il capitolo del dolore corale, corale per chi sale dall'anima popolare di Massa Lubrense e della città di Sorrento. Viene rappresentata una fanciulla che rientra dalla campagna con delle ginestre per adornarsi in indomani il capo per accogliere la madre che rientra dalla prigionia. Viene rappresentato un contadino che lavora nei fondi di Contico Reale che torna a casa la sera e vede il bambino che è nato dallo stupro fatto da un turco della sua giovane sposa e lo guarda con amore e con inquietudine. C'è la rappresentazione di Donna Virginia Guardati che pur essa persino nella camera da letto è stata assalita da tre turchi e miracolosamente si è salvata come dicono le male lingue a Sorrento per la sua abilità erotica mentre lei fa diffondere la notizia che si è salvata perché è stata capace di rifugiarsi in un nascondiglio della sua camera da letto. E' il dolore, il grido di dolore che sale dai pescatori di Crapolla che zoppicano sulla spiaggia prima di uscire in mare di notte e in quello zoppicare bestemmiano i turchi che li hanno colpiti con delle frecce due anni prima e riportandone dolori e sofferenze. Anche a Palazzo Correale il conte Filippo si sta preparando naturalmente in modo spagnolesco per accogliere il figlio marino che ha riscattato con una grossa somma perché lui crede ancora che il figlio sia stato prigioniero dei turchi e che insieme agli altri supestiti l'indomani rientrerà a Sorrento. E' un capitolo dal quale sale il dolore di una terra benedetta da Dio di una terra che è stata flagellata ma che ha trovato la forza con difficoltà di risorgere nell'attesa di questi supestiti che dovrebbero essere migliaia invece saranno pochissime, centinaia. E' il giorno della vigilia nel ricordo del dolore e della tragedia.